Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Lo dice Fabrizio de Andrè nella celebre via del campo, ma qualcosa di simile l'ha detta anche Baudelaire, prima ancora di lui Galileo Galilei. Ma senza andare lontano è qualcosa di radicato nella cultura popolare. La terra, il fango, il letame sono elementi essenziali alla vita. D'altronde in natura si sa nulla è uno scarto, e oggi parliamo proprio di uno scarto, uno scarto enorme, e del suo peso, per così dire, nell'ecosistema. Salve a tutti, io sono Elvira, e oggi parliamo della cacca delle ballene. Se come me amate il mare in tutte le sue forme, iscrivetevi al canale. E se volete sostenere questo primo progetto, condividete questo video. Fate scoprire anche voi, ai vostri amici, le merdaviglie del mare. Per quanto strano possa sembrare, le ballene sono le grandi concimatrici del mare, rendendo possibile la crescita del fitoplancton. Ne abbiamo già parlato in un altro video, ma facciamo un ripasso. Il fitoplancton sono quell'insieme di batteri e alghe microscopiche in grado di fare fotosintesi. Sono la vera e propria base della rete etrofica. Per vivere, queste microscopiche alghe hanno bisogno di acqua, e diciamo che in mare non manca, anidride carbonica, e anche di questa ce n'è abbastanza, e luce. E fin qui siamo a posto. Ma hanno anche bisogno di nutrienti, azoto, fosforo, ferro, cose che in mare aperto sono più difficili da trovare. Vicino le coste si trovano nutrienti in gran quantità, e di conseguenza il fitoplancton si riproduce senza problemi. Questo è un grafico che mostra la densità del fitoplancton in acqua. Rosso, arancione, significa che ce n'è tanto. Se invece vedete qui, lontano dalla terraferma, vedrete che di fitoplancton ce n'è davvero poco. Questi nutrienti, infatti, hanno la pessima abitudine di andare a fondo, e la conseguenza è che ci sono enormi regioni oceaniche, che potremmo definire deserti d'acqua, dove ci sarebbero tutte le condizioni ideali alla crescita del fitoplancton, ma mancano i nutrienti. Poco fitoplancton significa che ci saranno meno animali a nutrirsi di fitoplancton, e a cascata vuol dire che ci sarà meno cibo per i pesci e per tutti gli altri animali marini. Ed è qui che entrano in gioco le nostre balene. Come sapete, le balene sono animali giganteschi. Una balenottera azzura può arrivare a pesare 150 tonnellate, 150.000 chili, quasi quanto 2.000 uomini messi insieme. Non mangiano tutto l'anno, ma quando lo fanno, ci danno dentro, arrivando a strafogarsi anche 4 tonnellate di krill al giorno. Come è possibile immaginare però, prima o poi, quello che entra... dovrà anche uscire. Ed è qui che avviene la magia. Come una rockstar circondata di fumo, la balena si lascia andare, circondata da una nube fecale. Immaginate quanto deve essere bella la vita del ricercatore che si occupa della raccolta dei campioni, o peggio ancora, del fotografo che ha fatto questo scatto. In ogni caso, queste feci sono ricchissime di sostanze utili, soprattutto di ferro, un micronutriente molto molto difficile da trovare in mare aperto. E per ritornare di nuovo a Di Andrè, possiamo dire che il rilascio di questo letame porta a quelle che vengono chiamate fioriture algali. Ora, alcuni di voi si staranno chiedendo, perché proprio la cacca di balena? Diciamocelo, tutti gli animali fanno la cacca. Fa la cacca il tonno, lo squalo, il calamaro, persino questo piccolonino qui, nel suo piccolo, fa la cacca. Cos'è che rende la cacca di balena così speciale? Beh, innanzitutto le dimensioni, perché diciamocelo, si tratta di quantità rilevanti. Ma non è solo la quantità, quanto la qualità. Mi spiego meglio. Come abbiamo già detto, il ferro e i suoi composti tendono ad andare verso il fondo. Di conseguenza, gli animali che vivono e mangiano in profondità saranno più ricchi di questa sostanza. Un esempio? Proprio il krill, che di ferro è molto molto ricco. Le nostre balene, il cibo, se lo devono andare a prendere giù, si devono immergere per mangiarsi questo krill. Ma la cacca la fanno soltanto in superficie, diventando una vera e propria pompa biologica. Prendono il ferro contenuto nel krill e lo rilasciano sopra. Poi si rimmergono, mangiano, fanno la cacca e così via, avete capito. Ma c'è dell'altro. Le balene non si limitano a fare i su e giù per la corona d'acqua, ma migrano per migliaia e migliaia di chilometri, portando nel proprio intestino i preziosi nutrienti presi nelle zone più ricche e lasciandole lungo la via come dei giganteschi pollicino. No, non sono bricele quelle che lasciano. E in effetti si può anche vedere come lungo le vie migratorie dei cetacei solitamente ci sia più fitoplancton. A onore del vero, questo non è l'unico modo in cui le balene promuovono la crescita del fitoplancton. Anche il loro semplice andare su e giù sposta così tanta acqua da rimescolarla fondamentalmente, portando in superficie i nutrienti presenti in profondità. Però la cacca è più importante. Quindi riassumendo, più balene significa più cacca, più cacca significa più fitoplancton, più fitoplancton significa più animali che si nutrono di fitoplancton e così via. In conclusione possiamo dire che più balene uguale più pesce anche per noi, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista. Ora, come sapete le popolazioni di balene non se la passano benissimo. Fortunatamente adesso la loro caccia è strettamente regolamentata. In teoria. Ci sono grandi compagnie e alcuni stati, come il Giappone, che continuano a fare pressione, sostenendo che cacciare le balene potrebbe essere utile al settore della pesca. Perché uccidendolo ci sarebbe più disponibilità di krill per i pesci che se ne cibano. Ma come abbiamo visto è un discorso un po' semplicistico. In aggiunta non è solo la caccia a danneggiare queste popolazioni. Ogni anno molte balene vengono uccise da scontri con imbarcazioni, disorientate dall'inquinamento acustico, soffocate dalla plastica, la lista è lunga purtroppo. Ma quanto vale una balena? Per cercare di dare valore alla vita di questi animali, si è provato a fare una valutazione strettamente monetaria del loro ruolo nell'ecosistema. Stimolando così tanto la crescita del fitoplancton, fanno sì da diminuire l'anidride carbonica presente nell'atmosfera. Qualcosa di abbastanza utile adesso, non credete? La stessa materia organica di cui una balena è fatta è composta principalmente di carbonio. Quando l'animale muore, questa gran quantità di materia organica va a finire sul fondo del mare, togliendo ulteriormente carbonio che altrimenti sarebbe ritornato in atmosfera sotto forma di anidride carbonica. L'economista Ralph Shami ha stimato che per tutti questi servizi una balena in media vale 2 milioni di dollari. Una balena viva. Una balena morta invece frutta fra i 10 e gli 80 mila dollari. Come vedete vale molto molto di più una balena viva di una balena morta. Il problema, come spesso accade quando si tratta di natura, è che questo immenso valore non entra nelle tasche del singolo, è un bene comune. E purtroppo un bene comune diventa presto un bene di nessuno. Guardiamo tutti al nostro piccolo orticello e ci stiamo distruggendo con le nostre mani. Ma ogni orto serve dell'etame. E se vogliamo del buon letame diciamo che è ora di iniziare a proteggere davvero le balene. Alla prossima! Ciao!